Oggi parliamo del tè marocchino, Atai Binana, è proprio la cerimonia del tè marocchino ed è un grande momento di ospitalità. Tutto il mondo arabo è un mondo aperto alle altre persone, è un mondo ospitale e il tè marocchino rappresenta proprio questa cosa. Nella tipica casa marocchina si possono vedere lungo le mura dei divani lunghissimi dove gli ospiti si possono sdraiare e all'occorrenza diventano anche dei letti. Al centro c'è un tavolo rotondo ed è lì che si svolge il rituale del tè ma potrebbe anche esserci semplicemente un vassoio rialzato con i piedini. A fianco di questo vassoio c'è invece il babur. Il babur è il contenitore tipico che può essere di argento o che può essere di rame dove viene posizionata l'acqua calda e ha un rubinetto perché appunto da lì si attinge all'acqua. Attenzione però perché babur in dialetto marocchino a volte significa nave e poi attenzione perché in realtà a seconda dei vari paesi del mondo arabo il babur assume delle fattezze diverse e poi c'è anche da dire che a volte non si usa per niente si usa invece una semplice teiera. Non esiste bevanda più dissetante del tema rocchino più corroborante più avvolgente nel profumo e va sempre servito caldissimo anche d'estate quando le temperature fuori sono già di per sé altissime si beve sempre durante la giornata può fungere da aperitivo prima dei pasti può fungere da digestivo alla fine dei pasti oppure per la pausa del pomeriggio oppure può accompagnare lo studio può accompagnare la lettura cioè qualsiasi momento è buono per gustarsi una tazza di tè. Sono pochi gli ingredienti necessari l'acqua bollente il tè verde lo zucchero che può essere bianco o di canna e poi dei rametti di menta spezzettata. Guardate che la menta marocchina è una menta molto particolare perché ha delle proprietà di analgesico naturale e quindi dà una grande mano sia all'intestino che allo stomaco favorisce la digestione per esempio riduce le fermentazioni induce appetito e questo è un toccasana in paesi come il maghreb dove la temperatura estiva è davvero torrida. La cerimonia di preparazione del tè avviene grazie al capo famiglia oppure ad una persona che è investita di quel compito si parla proprio di cerimoniere e tutte le fasi di preparazione lui le svolge davanti agli ospiti perché tutti quanti devono vedere come avviene e anche assaporare i profumi dei vari ingredienti mentre vengono inseriti. Ma come si fa? Prima si mettono le foglie del tè in una quantità che dipende chiaramente dalla capienza della teriera e poi dal numero di persone che ci sono poi si mette l'acqua bollente quindi si sciacqua per togliere il gusto amaro e l'eccesso della teina e poi si aggiunge la menta e si aggiunge lo zucchero infine ancora acqua e si manda a bollore. Ora il tè deve essere ossigenato e questo passaggio richiede esperienza e tanta dedizione. Il cerimoniere prende la teiera e versa in un bicchiere il tè dall'alto più o meno da 40 centimetri e poi lo assaggia perché se è buono va dato agli ospiti se no bisogna rifarlo. Anche quando si decide che è buono e quindi lo si serve agli ospiti sempre va versato dall'alto su dei bicchierini di vetro colorato ma nelle case più benestanti si tratta addirittura di bicchierini di cristallo. Il tè non si serve da solo ma va servito con quei dolcetti marocchini meravigliosi zuccheratissimi mielosi fantastici come per esempio il cab al casal fatto di farina di mandorla farina bianca e poi ci sono le uova il burro c'è la cannella e c'è anche l'acqua dei fiori d'arancio ma il tè può accompagnare anche quelle specie di crespelle che sono le arraief ma che in dialetto marocchino si chiamano più semplicemente e sono più conosciute come al samman. Il tè è arrivato in Marocco nel 1854 portato dagli inglesi quando dopo la guerra di Crimea essi persero i loro sbocchi commerciali usuali e dovettero cercarne degli altri per cui andarono nei paesi dell'Africa settentrionale e c'è da dire che questa bevanda fu subito apprezzata dalla popolazione e oggi il tè non manca in nessuna famiglia marocchina. Il Alicà non manca in nessuna foda ... Grazie a tutti.